Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale con una nuova combo Allora, oggi analizziamo il circuito di rama, molto bello il circuito, mi è piaciuto veramente tanto L'auto è una Citroen 3 cavalli, che mi è piaciuta un po' meno perché ha un modo di essere guidata tutto particolare Bisogna forzarla molto, bisogna forzare molto l'accelerazione, la frenata, bisogna accelerare prima del dovuto Vedrete un po' di cose strane in questo video, che di solito sono sbagliate, come accelerare prima del punto di corda È sbagliatissimo, però con questa macchina paga, ve lo assicuro, ma bando le ciance e iniziamo subito l'analisi del giro Allora, è essenziale qua uscire bene dall'ultima curva a raggio variabile, dopo ve lo spiegherò Molto molto insidiosa, ci sono due modi per farla Insomma, bisogna uscire bene qui dall'ultima curva, partiamo Terza Si tirano tutte le marce ragazzi, cioè fino a 8500 giri, bisogna tirarle proprio tutte fino in fondo Tutte, 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 proprio fino all'imitatore Ok, quest'auto bisogna tirarla fino all'imitatore Arriviamo poi, finalmente, alla prima staccata che si frena appena prima dei 100 metri Un 10 metri prima dei 100 metri, si fa la staccata molto violenta, si scala fino alla seconda E bisogna qui cercare di anticipare un po' l'inserimento Non dobbiamo andare larghi per poi, fa una bella percorrenza, ma qua dobbiamo arrivare Pan, frenata, anticipare l'inserimento, una cosa un po' naturale Poi appena capiamo che riusciamo a stare dentro la curva, puntiamo subito il gas Anche prima del punto di corda E poi al punto di corda si butta giù tutto Questa macchina ragazzi si guida così Appena riusciamo a capire che stiamo dentro la curva Puntiamo subito il gas, più o meno a metà E poi al punto di corda giù tutto Giù tutto, giù tutto, come se non ci fossero un domani Ok, ma guardiamo qua Staccata Seconda Anticipiamo l'inserimento E poi giù tutto, giù tutto, giù tutto Si stura proprio fino all'imitatore La prossima curva si fa in pieno Ma bisogna girare il meno possibile Ok Poi questa raggio variabile a sinistra Non c'è un vero e proprio punto di staccata È più o meno una staccata dove inizia a vederci la gommatura della pista E qui la dobbiamo spigolare Ok Scaliamo fino in seconda La spigoliamo Quindi puntiamo un po' all'interno curva Allarghiamo E poi puntiamo subito all'interno Anche qui stessa cosa ragazzi Appena capiamo che riusciamo a starci dentro Puntiamo il gas E poi prima del punto di corda Della seconda curva Qua sono due curve a sinistra Prima del punto di corda Qui si butta giù tutto E riusciremo anche a mettere in terza E poi ci sarà un tornante a destra Ma adesso ci arriviamo Seconda Puntiamo subito il gas Puntiamo Giù tutto Terza Andiamo tutto verso sinistra E praticamente Teniamo un mezzo secondo la terza E poi scaliamo subito seconda Però qua è importante sfruttare tutta la pista Perché così riusciamo a tenere una bella velocità in questo tornante E anche qui stessa cosa Andiamo tutti a sinistra Sfruttiamo bene la pista E poi tutto destra subito Per questo tornante molto stretto Anche qui solita regola ragazzi Appena capiamo che riusciamo a fare la curva Puntatina di gas E dopo un secondo Barra mezzo secondo Bam Subito giù tutto Anche qui dobbiamo sfruttare bene Tutta l'uscita Tutta l'uscita di questo tornante Dobbiamo sfruttare bene Perché così l'auto riesce a trazionare meglio E riusciamo a guadagnare tanta velocità Ok Seconda Puntiamo subito il gas Giù tutto Sfruttiamo bene Terza Questa curva di sinistra si fa tutta piena E anche qui bisogna girare il meno possibile Poi Fermiamo qua un attimo sotto questo passaggio Qua ho visto tantissimi ragazzi Che Andavano tutto a sinistra Qua praticamente c'è una chicane destra-sinistra Andavano tutti a sinistra Andavano tutti a sinistra Per poi fare la curva Destra-sinistra Io invece qua L'affrontavo in modo diverso Io qua come vedrete Non punto ad andare tutto a sinistra Ma stavo in mezzo alla carreggiata Qua davvero non ha senso Non ha senso buttarsi tutto a sinistra Bisogna stare in mezzo alla carreggiata E fare questa chicane Occhio Perché quando finisce il cordolo a sinistra Della curva a sinistra Bisognerà far subito la staccata Adesso andiamo a vedere Si sta in mezzo alla carreggiata Curva a sinistra Curva a sinistra E qui appena finisce il cordolo Qui Appena finisce il cordolo Si fa la staccata Fino in seconda Anche qua ho visto dei ragazzi Che la facevano di terza Tenendo il motore Molto giù di giri E quindi l'auto Non va Quando è giù di giri Questa macchina non va Quindi anche se la teniamo per poco tempo La seconda La dobbiamo mettere Anche qui ragazzi Anticipiamo l'inserimento Stiamo belli cuciti al cordolo di destra E anche qui Come sempre Quando capiamo che stiamo dentro Alla curva Leggera puntatina di gas E poi giù tutto Anche qua sfruttare bene Tutta l'uscita Di terza Sarà un seconda terza E poi ci sarà La parte finale Con il punto più bello Adesso della pista Secondo me Dove ieri Il giorno della gara Ah non l'ho specificato È sempre stata una gara Di Italia Racing Team Una for fun Dove In gara 2 Dove c'è l'inversione di griglia Insomma Ci sono state un po' di manovre folli Sopra i cordoli È stato molto divertente Ma andiamo avanti Seconda Tutti interni Tutti interni Giù tutto Giù tutto Giù tutto Sfruttiamo bene qua Portiamoci Tutto verso destra È un punto che si fa Tutto in pieno Questo Curva sinistra Che non si vede Si fa piena Si accarezza il cordolo Si accarezza il cordolo E qua Prima Vedete che qua C'è il segno C'è il segno della gommatura Un 15-20 metri Prima si fa la staccata Perché questa macchina Frena veramente poco Quindi bisogna anticipare Un po' la staccata qua Seconda Anche qui è una raggio Anche qui è una raggio variabile A sinistra Sono due curve Bisogna puntare subito L'interno curva Anche in questo caso Quindi vedete qua il cordolo Dobbiamo puntare Qui il cordolo Andarci proprio sopra il cordolo E dagli bene di sterzo Anche qui Acceleratore molto anticipato Ma va bene Perché l'auto sta dentro E poi ci avviciniamo Alla curva Che vi dicevo A inizio video Molto insidiosa Adesso ve la spiego Seconda Si sta tutto interno E sotto interno Giù tutto Si tira tutta la marcia Terza E qua si arriva All'ultima curva Ragazzi Si stacca Più o meno Un attimino dopo La gommatura Che vedete qua In realtà ci sono due modi Per farla Questa qua O La si spigola Quindi cerchiamo L'interno Allarghiamo E poi restringiamo Ma È veramente difficile Perché l'auto parte In sovrasterzo Oppure Si tiene una traiettoria più larga Quella che vedrete in questo giro Frenatina leggera 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 Occhio perché comunque L'auto parte subito Cerchiamo una traiettoria Appunto molto larga Ma cerchiamo anche Di tenere tanta velocità Traiettoria molto larga Pian piano Curviamo E andiamo Ad imboccare Perfettamente L'ultima curva È molto difficile Ragazzi Faccio prima A farvela vedere Comunque Ripeto Qua Riprendiamo Dalla frenata Frenata lieve Stiamo Tutti esterni Tutti esterni E poi E poi Imbocchiamo L'ultima curva Di terza Ok Qua si stura Tutta la terza Ovviamente Si fa Piena Quest'ultima curva Ed ecco qua Insomma Un giro di arama Finito Mamma mia È stata Molto impegnativa Questa Questa volta Perché Davvero L'auto Bisogna Sturarla L'impossibile Come sempre Ragazzi Se trovate utili Questi video Lasciate un like E iscrivetevi al canale E ora vi lascio Il mio giro Completo Senza il commento Ciao E al prossimo video Il mio giro 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 Grazie a tutti.